E tra l'altro sarò anche a Romics, quindi vi aspetto anche a Romics sabato e domenica Ci troverete entrambi i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 allo shop delle magliette Quindi vi aspettiamo, mi raccomando Ma questo è sabato e domenica? Sabato e domenica questi, sì Di questa settimana? Sì, quindi non vi chiamo a Romics No, non vi chiamo a Romics Saremo lì solo in quegli orari, quindi vi aspettiamo, mi raccomando Ma questo esce su YouTube? Ciao a tutti, io sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui in questo nuovo video Sono sull'overboard, fai vedere Gaia? Hola, weh, weh, weh Fuck time sull'overboard Sponderò alle vostre domande però mentre sono sull'overboard Perché è più divertente Scusate, stavo facendo un fail assurdo Quindi adesso andiamo fuori, qui c'è il piazzale un po' più ampio E andremo a fare, arrivando a rispondere alle vostre domande Quindi Gaia, seguimi Seguimi, andiamo! Ciao! Ciao! Oh, cadevo! Divertente? Qua c'è tipo poca luce, quindi andiamo in un punto in cui c'è più luce. Ma ad esempio... Voilà! Troppa luce però qua. Vabbè. Aspetta, voglio provare a fare una ripresa con l'overboard. Vediamo quanto viene dritta. Altro che stabilizzatore questo, eh. All'indietro anche. Incredibile, signori. Oh, non posso trasportarti, devo fare il video. Sì, vai male. Ok. Tieni. Devi vedere se l'inquadratura va bene. Ma è sempre zoomato. Torti lo schermo. E non lo... Ah, no, ecco, è normale adesso. Adesso risponderò alle vostre domande. Ahia, non mi muovere! La prima è di Avery Sack che dice, ti piace l'università che fai e come ti è sembrata a primo impatto? Mi saluti, mi chiamo Avery Sack. Ciao Avery Sack. L'università che faccio sì, mi piace tantissimo. Adoro tantissimo. C'è Ilaria un po' perplessa nell'inquadratura. Mi piace un sacco l'università che faccio e sono veramente felice della mia scelta. A primo impatto mi è piaciuta subito, sinceramente. Ho trovato subito che fosse una bella università. Prova Charlie. Seconda domanda, quale lavoro vorresti fare in futuro? Come ho già detto tante volte, in futuro mi piacerebbe tanto fare la regista, però non è così semplice per tantissimi motivi. Fare la regista soprattutto in Italia e soprattutto per una ragazza è complicato, ma io ce la farò con il vostro aiuto e con il vostro sostegno ce la farò. Puoi lasciare la mia camera. Esco mossa, poi esce tutta mossa l'inquadratura. Non sai più usare l'oxelo e allora devi utilizzare lei per... Poi, prossima domanda, vediamo un po'. Perché è così difficile aprire un ruotolo di carta igienica nuovo? Ecco, questa è una domanda che sinceramente mi faccio ogni volta. Perché deve essere così difficile pulirsi il sedere? Ma vabbè, va bene, l'unico volta. Giusto. Hai mai pensato di cavalcare un drago e avere un'armata robot al tuo fianco? Guarda, sinceramente tutti i giorni. C'è una cosa che proprio ogni giorno penso, cavolo, vorrei avere un drago e vorrei cavalcare un drago con un'armata robot al mio fianco. Tutti i giorni lo penso. Di quale Looney Tunes eri innamorata in particolare? Di Paz Bunny e soprattutto di Lola Bunny. Era una figa assurda, ragazzi. Ma Lola è una femmina, che eri lesbica da piccola. Cosa hai detto? Scusa. I tuoi occhi cambiano... Hanno mai cambiato colore? In realtà, è una bella domanda, non lo so se... Questi sono delle cuffie d'assurda. Sono cose che capitano, cioè... Non so se i miei occhi cambiano colore. Cambiano colore i miei occhi, secondo te? Sì, in base alla luce. Ah, lo sai? Perché in base alla luce. I tuoi occhi cambiano colore in base alla luce, ok, lo sai adesso. Come hai pensato al nome Jawi? Questa è una cosa che non ho mai detto a nessuno. Ci sarà soltanto in questo vlog, in questo preciso punto del vlog. Quindi soltanto i pochi fortunati che guarderanno questo vlog lo sapranno. Il nome Jawi viene dal secondo nome di una degli One Direction, che è Jawad. Scrivete nei commenti chi è che fa così come... Stai zitta tu? Scrivete nei commenti chi è che fa Jawad di secondo nome tra gli One Direction. Stai zitta! Non lo so, sto prendendo a casa e stai insieme a me. E le da tagli. Toglia, taglia, 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 taglia. Hai mai pensato di colorarti tutti i capelli e farti un tatuaggio? Tutti i capelli non lo so, non sono convinta che mi piacerebbe. Mentre farmi un tatuaggio sì, voglio farmi assolutamente un tatuaggio. Non vedo l'ora di farmi un tatuaggio. È anche, è tra i tatuaggi che vorrei farmi. È carino, è vero. Le delle zampette di lupo sulla caviglia che salgono. Che salgono? Però non lo so, non sono convinta. Hai paura? Hai paura? Ma sono a fuoco mentre parlo? Sì, sì. Sei sicura? Se non sono a fuoco muovi la ghiera, eh. Quella davanti? No, ma ogni tanto la muovo. Questa qua? Davanti? Sì, ogni tanto la muovo. Sperando. Perché non si vede che sei qua. Come era giro quando ho scoperto che avresti avuto delle sorelle? Inizialmente sono stata molto felice. Ero tipo... Me ne sono pentita dopo. Subito dopo ho fatto... No, perché non sono figlia unica? Perché? No. Però portano allegria nella tua vita. Eh? Però portano allegria nella tua vita. Esatto, quindi adesso sono contenta. Quando ero piccolo un pochino meno. Perché erano delle rompipalle assurde. E per colpa loro dovevo sempre passare le ore, le ore a cercare i ciucci che loro perdevano in giro. Ed erano sempre nei posti più strani. Perché non è che dici... Vabbè, erano i posti normali. Li metto dove sapevano che tu non li avessi trovati. Esatto, esatto. Lo facevano apposta, stronze. Grazie. Comunque siamo qui. Prefetto. Ciao. Io verrà con te a Foggia al Festival del Nerd di maggio. Ci saremo io, Chenoia, Loki, Alex e Matteo Fire. Tutti quanti per voi al Festival del Nerd. 19 e 20 maggio. Dovrebbe essere al Granda Puglia. Quindi sì, ci vedremo al Festival del Nerd al Granda Puglia di Foggia. Ci divertiremo un sacco. Sarà un sacco divertente. La finisci di fare avanti e indietro? No, è divertente fare avanti e indietro. Alex! Maglietta! Stai bene. E tra l'altro sarò anche a Romics. Quindi vi aspetto anche a Romics sabato e domenica. Ci troverete entrambi i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 allo Shop delle Magliette. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando. Ma questo è sabato e domenica? Sabato e domenica questi, sì. Di questa settimana? Sì. Quindi non lo chiamiamo a Romics. No, non lo chiamiamo a Romics. Quindi vi aspetto allo Shop delle Magliette. dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Saremo lì solo in quegli orari. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando. Ma secondo te se un cammello va da un rinocenante e gli chiede di andare a mangiare un ritorinco, vince il pappagallo? Secondo me... 10! Alle elementari medie avevi una crush? Certo, tutti hanno una crush alle elementari e alle medie. A te chi ti piace, Elisa? No, sì. No, sì. Non ci crediamo. Chi ti piace, Elisa? Dai, puoi dirlo. Elisa, chi ti piace? No, Elisa, chi ti piace? Nessuno. Avete la luce sparrata in pancia? Non si mette a fuoco. Vabbè, devi mettere tu a fuoco. Non è che si deve mettere a fuoco. Ma ricolorarti i capelli? Non so, tipo arcobaleno. Che dite? No. No. Le mie sorelle dicono di no. Fatemi rosa. Rosa. Se un giorno ci teni una parte di un film e ti chiedessero di fare una scena di nudo, la faresti? Lo seguo. Se mi pagano bene, sì. Lo sai che mentre parlavi ti ho inquadratero le tette. L'apposta proprio. Ma senza pensarsi. Sono scesa. La scena di nudo e mi inquadri le tette. Beh, se mi pagano bene, sì, perché non dobbiamo. Appunto. L'importante è quanto ti pagano. Non ascoltate queste cose. Sto scherzando. Ma perché si chiama Romanzo se le pagine sono 100% vegetali? Ma perché ti inventi queste? Cioè, da dove ti è uscita questa? Non vorrei capire. Cioè, io so da dove ti è uscita, però non posso dirlo perché siamo in fascia per te. Hai mai baciato con la lingua una ragazza? Sì. Con una ragazza, tra... Una ragazza? Certo. Sì. Non me lo dico. Ah, Charlie dice. No. No, me lo devi dire. Ma tu cosa fai precisamente nella tua vista quando non hai niente da fare? Quando non fai video su YouTube, che cosa fai? La pornossata. Dai! Non dite queste cose. Food porn. Perché food porn? È un modo di dire su Instagram. Cioè, quando il cibo è bello, metti food porn. Sì, metto oggi questa. Ma, ah, ok. E gli gnocchi sono food porn, cioè... Ma è vero oggi, ma sei fatto gli gnocchi. Hai mai fatto... Hai mai dato fastidio a un tuo parente tipo a tavola con il cibo? Certo. Io lancio i pezzi... Gli gnocchi oggi li lanciamo alle persone. Mendevo gli gnocchi al fudo. Mi stavo tipo con la fionda. No, aspetta, ma c'è una scena. Vai. Aspetta, mi devo inquadrare. Ma mai mi inquadravi? Sì, sì. Che dettaglio. Taglia. Hai mai comprato un regalo all'ultimo? No. Eeeh, a voglia. Cioè... Io ieri con mio padre. E' un altro giorno. Allora, tre, faccio uno, stupi, due... Tu non stavi leggendo le domande? Ho bevuto troppo meglio se... Ma tu stai su Musical.ly? Eh? Stai su Musical.ly? No. Iscriviti. Saresti? Ci sono, ma non... Non fai Musical.ly. Non so solo per guardare... Fai! Lise e Elena. Lise e Elena mi amo! Anch'io devo sapere guardare a loro. Cioè, a loro due io non le guardo. Ma chi si prega? Io voglio Lise e Elena. Mi prego, sposatemi. Sono pure caride. Scrivetemi! Quindi ragazzi, io spero che questo video sull'ROW! Per BORDER. Vi sia piaciuto? Lasciate un like. Dì no. Lasciate un like. Lasciate tanti commenti. Tanti... Vede il tasto dei like. E poi... Che cosa ti dice? Charlie? È bene. No. Niente, è già venuto il video del tipo. Il video è il video, lo chiudo io, il video è il mio! Che c'è? Le crisi! Ho bevuto troppo meglio se... Mi riportano da te. Quindi ragazzi, spero che questo video collo... Mi sia piaciuto? Se volete un like? Lasciate un bel like. E poi... E poi... Non si capisce niente. Non si capisce niente. Lasciate un food porn se ditevi è piaciuto. Lasciate un bel like. No! No, no! Cado, cado, cado! 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 No! Non mi dà un hoverboard! Non mi voglio... Non sai che adesso sei più bassa? Ahahahah!